Musica Allora adesso veniamo poi alla parte, questa è la parte celebrativa e ci vuole ogni tanto anche godere nella vita, non si può solo piangere e autoinfriggersi di fragilazioni, insomma il godimento è importante, lo so anch'io nel palinsesto di Radio 24, c'è la zanzara, però poi esistono i problemi, perché prima giustamente il vostro presidente diceva attenzione che sono le infrastrutture qua, allora una cosa la devo dire, mi manca il governo qua purtroppo, nel senso che non ce l'ho sul palco, però io vorrei che venisse chiusa definitivamente sta cavolo di Brescia-Venezia, Brescia-Mestre, l'alta velocità, stiamo a fare le Olimpiadi, Milano-Venezia-Cortina, ancora due ore e quaranta da Milano-Venezia, non se ne può più, non lo dico, chiudete, non so chi dirlo a quello lì, di qualcuno, finite sta cavolo di alto, poi non c'è una collina, a parte spianiamo i vicentini, tiriamo su le moreniche, ma qual è il problema di fare sta alta velocità da qua, e poi la Brescia è pronta, Paolo è pronta, fa parte del pacchetto infrastrutture da finanziare. No, con questo lo so, perché, tra l'altro mi è arrivato un messaggio del Ministro di Incasso, poi lo chiederò al Presidente di Gerardo dei Relatori, che si congratula, per tutto poi dice una cosa che mi sono segnato, perché conferma che nei prossimi giorni sarà approvata la legge olimpica, accettuta essualmente da parte del Consiglio dei Ministri, che diventerà un tassello fondamentale per iniziare a lavorare sull'Olimpiadi del 2026, un'altra promessa mantenuta da parte del Governo, così come ricordo lo stanziamento di un miliardo di euro per i territori interessati, e questo anche mi sembra importante. Benetton, veniamo però al 2021, perché lì voi avete una tappa fondamentale, anche perché il 2021 è a tutti gli effetti, non dico il test perché sarebbe a sminuirlo, ma è uno snodo fondamentale per il 2026. Non che si possa usare come cavi al 2021 per sbagliare, ma deve tutto funzionare bene lì come viatico per il 2026, non lo dico perché, vedi che malagorile conosco i miei poli, il 2021 è il criceto e poi casomai, no, non è nessun criceto, è lo sci alpino ed è un'importanza fondamentale. Prego, Benetton. No, buonasera a tutti, è un appuntamento essenziale, così come le finali di Coppa del Mondo di quest'anno, marzo, coglio l'occasione per invitare tutti quanti, proprio in questo gioco di squadra, sarà una tappa fondamentale, una vera prova d'orchestra, ci saranno tutte le gare di sci alpino, maschili e femminili, sono quegli eventi anomali, ma molto significativi, perché ci saranno due gare al giorno, e proveremo e testeremo tutte le piste, così come i nuovi impianti. Posso dirvi che quando io ho accettato questa sfida di presidere il comitato organizzatore, ho cercato di portare quel tipo di esperienza che tutti condividerebbero in questa stanza, da imprenditori. Ci siamo dati un'agenda, abbiamo detto quelle che erano le priorità, le priorità erano quelle di organizzare dei buoni mondiali di sci, per cui non perdersi nei meandri della politica. Apro una parentesi rispetto a qualche cosa che è già stato detto, la politica si è ben comportata nei confronti di questo evento, nel senso che non solo con la grande partecipazione di quella locale e anche di quella nazionale, ma anche durante i cambi di fronte, io non ho sentito nessun tipo di volontà di rallentamento o di mettere le mani su delle cose tecniche. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato prima di tutto, ecco mi è piaciuta la storia che abbiamo sentito oggi, antropologica, sociologica, del concetto della comunità locale. Perché dico questo? Dico questo perché forse la difficoltà più importante per me, fin dal primo giorno, è stata quella di convincere la comunità locale che questa era una grande opportunità. L'atmosfera più importante era quella del disfattismo, non ce la faremo a fare i mondiali, faremo una brutta figura, non si faranno mai le infrastrutture, tanta confusione anche sulle priorità. Quindi il primo passaggio è stato quello di prendere esempio proprio da quello che è stato l'Expo, andare in un luogo, avere una chiara ambizione e mettere in piedi delle priorità. Le priorità erano gli impianti e le piste da sci. Queste sono state finalizzate, ci sono delle piste da sci che sono state rinterpretate quest'anno, parlo della vertigine che ospiterà appunto i mondiali di sci. Un nuovo impianto che parte dal centro, che ha triplicato la capacità di trasporto. Anche questo un elemento essenziale per le gare di sci, ma anche per facilitare questo percorso che deve portare a un sistema di viabilità più sostenibile. Ci sarà un nuovo impianto che collegherà la Tofane con le Cinque Torri l'anno prossimo. E io penso che quando è arrivata la commissione internazionale del CONI, del CIO, penso che abbia apprezzato che quello che, in questo senso di gioco di squadra, quello che stavamo facendo era sicuramente questo primo rotolamento della palla di neve che poteva diventare molto più importante se ci avessero assegnato le Olimpiadi. C'è un grande sogno con il governatore Zaia, il collegamento con la Val di Zoldo e con l'Alto Adige. Questo giusto per dare un riferimento alle potenzialità di un progetto di questo tipo, non solo perché l'impiantistica ha un moltiplicatore economico di 6-7 volte tanto, ma non solo perché il tema dell'ambiente porterà in quota la potenzialità di tante attività economiche, ma per darvi un'idea, questo potrebbe potenzialmente diventare il più grande comprensorio al mondo. Quindi si parte da una cortina che è la bella addormentata, che tutti hanno dimenticato, che è bellissima, che è sempre stata amata ma che è finita nel dimenticatoio e quando qualcuno pensa a cortina pensa ancora al 56 e invece può diventare questo grande rilancio. Di ingredienti. Abbiamo voluto darci dei titoli, ho voluto che ci fossero dei titoli, quindi prima di tutto il pragmatismo, le priorità, i mondiali di sci, quello che facciamo di sicuro e poi anche il grande sogno, il grande sogno che atterrerà con queste Olimpiadi. I titoli sono quelli che hanno a che fare con la sostenibilità, dove per sostenibilità non si deve secondo me intendere solo l'ambiente. Ho voluto cercare il coinvolgimento della comunità locale, proprio per quello che abbiamo sentito in precedenza. La comunità locale, un posto è bello se è vissuto. Un giovane che viene da quel luogo può veramente avere una vita felice se ha l'occasione di sviluppare le proprie competenze in quel luogo. Mi piace l'idea che ho sentito oggi della conoscenza e della competenza locale per la visione globale. Ecco, in qualche maniera io ho voluto fare quello che qualsiasi altro imprenditore avrebbe fatto. Guardare a lungo termine, per cui è come un pilota di Formula 1 che cerca di guardare per fare bene la curva, il punto più lontano, ma allo stesso tempo rispondere con pragmatismo alle esigenze del territorio. Quindi prima i mondiali, prima la comunità locale e se questo, ho pensato, avrà successo, tutti ne guadagneranno. No, è molto importante, anche perché qui vengo al sindaco di Cortina, cioè voi avete un combinato di sposto unico. Ho detto, non è che i mondiali di sci del pino possono diventare una cavia, perché ci mancherebbe, non puoi sbagliarli. Però sicuramente rappresentano sia come copertura mediatica che come capacità anche di rodare la macchina un'esperienza unica. Cioè non arrivi al 2026, tra virgolette, Vergine. Che cosa troveremo a Cortina nel 2021 in questo caso? Ho visto che avete inaugurato l'11 novembre, Coltrusche, la nuova freccia del cielo si chiama, mi correga se sbaglio. L'11 di gennaio. L'11 di gennaio, non so perché mi ricordavo, novembre, va bene, uguale, meglio ancora. Ma che cosa troveremo a Cortina nel 2021? A partire qui da entrare nella parte un po' più dolente, perché Moraci ci ha raccontato in maniera ornitologica i colibri, le farfalle e quant'altro. Però questo è un paese che dal punto di vista ornitologico conosce un'altra specie molto diffusa che è l'uccello padulo Moraci. Quindi ho bisogno anche di capire che cosa potrebbe andare storto. Allora, che cosa troveremo nel 2021 e che cosa manca da fare da qui al 2021 adesso? Sì, innanzitutto buonasera. Ci tenevo comunque a sottolineare un concetto che è quello del rispetto, del rispetto che abbiamo avuto tra di noi nella partita olimpica. Del rispetto, devo dire, che ha avuto il presidente Zaia nel momento della scelta della decisione di candidare Cortina al Veneto nel sentire il territorio, nello specifico il sottoscritto, sapendo probabilmente di trovare non la Raggi, non l'Appendino, ma di trovare probabilmente un interlocutore che avrebbe detto sicuramente sì. Era un treno ad alta velocità sul quale salire, una grande opportunità sulla quale ovviamente Cortina, la mia amministrazione, ha voluto partecipare. E devo dire che ci siamo fidati e questo è stato sicuramente un successo. Un successo che poi è stato portato avanti da questo fantastico gruppo, fantastici quattro, due governatori, due sindaci e da un coach straordinario che è Giovanni Malagò, che veramente ha fatto assolutamente la differenza. In tutto questo devo dire che Cortina ha il vantaggio di avere le finali delle finali del Coppa del Mondo quest'anno a marzo, avrà il prossimo anno i mondiali, quindi le Olimpiadi 20-26. Quindi dei test events straordinari, importanti, dei lavori che sono secondo quello che ci eravamo dati e quindi le opere sportive, a differenza, magari qui poi colgo l'occasione per parlarne, ma la parte sportiva è sicuramente funzionata, grazie anche all'intervento del commissario straordinario Luigi Sant'Andrea che devo dire che ha fatto la differenza per quanto riguarda ovviamente le opere che sono state realizzate sulle piste e ovviamente anche per quanto riguarda l'impiantistica. Quindi avremo l'opportunità di testare quest'anno, di avere un meraviglioso, io ne sono certo, mondiale 2021 con una grande attenzione, perché sarà ovviamente il preludio dopo cinque anni per le Olimpiadi e testare una macchina organizzativa, peraltro, che è già stata in qualche modo rodata negli ultimi anni perché ricordo che Cortina a livello di Coppa del Mondo è protagonista ormai da decenni con veramente una capacità organizzativa data dagli uomini e dalle strutture che sono sicuramente invidiate. Quindi un avvicinamento verso l'appuntamento principale che ci darà sicuramente garanzia. Allora le chiedo nel concreto due cose. Che lavoro sta facendo lei con l'associazione di categoria Alberghiera? Sappiamo che Cortina ha un problema sotto diversi aspetti. E poi voglio capire invece dell'aeroporto, perché li passo la parte infrastrutturale che mi preoccupa tantissimo. Lo dico subito così. Non peraltro, perché chi di voi, penso di voi, fa la strada per andare a Cortina. Un leggerissimo imbuto a Longarone. Mi è sembrato di notarlo così. Adesso va bene tutto, però... Ma forse ho avuto sfiga io, però sarò anch'io di Stoccolma. Però io l'imbuto lo becco sempre lì. Allora, Sindaco. Sì, sicuramente ci sono dei temi. C'è il tema sportivo, c'è il tema ovviamente infrastrutturale. Dal punto di vista infrastrutturale, l'occasione dei 2021 non è stata persa, ma sicuramente siamo in ritardo. Il ritardo della politica, il ritardo probabilmente qui c'è una responsabilità, probabilmente all'interno di ANAS, ha fatto sì che si siano trascinate, diciamo, le lavorazioni. Quindi assisteremo ad una viabilità migliorativa con le quattro tangenziali o bypass tanto attesi, cioè quello di TAI, di Valle, di San Vito, di Cortina, probabilmente per il 2022-2023. Però, come giustamente aveva detto anche Rossi, le Olimpiadi o i mondiali lì sono un evento sportivo straordinario, ma sono l'occasione per dotarsi di tutta quella serie di servizi e infrastrutture che debbano servire su un territorio. Quindi se dal punto di vista sportivo ci siamo, dal punto di vista infrastrutturale, purtroppo per il 2021 non saremo pronti, ma saremo pronti successivamente per il 2022-2023 e ovviamente il pacchetto olimpico prevede un miglioramento complessivo sulla viabilità del bellunese che risolverà, io mi auguro, definitivamente problematiche che sono sicuramente il danno principale, sia sotto il profilo turistico, ma anche sotto il profilo ovviamente di fruizione di chi ci abita in queste zone. E con le associazioni degli abbergatori e le associazioni di categoria, qual è l'ostacolo più duro in questo momento? Ma ostacoli, diciamo, ce ne sono, ma sono tutti assolutamente affrontabili. Come aveva detto Alessandro, anche Alessandro Benetton, devo dire la mia amministrazione si è insediata due anni e mezzo fa, dopo un periodo piuttosto difficile sotto il profilo amministrativo, un anno di commissariamento, un mondiale già assegnato ma su cui ci si credeva poco, devo dire grazie a Fondazione 2021, grazie, io credo, perché sento di prendermi anche questo merito, alla nostra amministrazione che ha portato sicuramente un po' di equilibrio nel Paese, un riequilibrio più generale con le categorie economiche, devo dire che Cortina è assolutamente partita, c'è una grande positività, ci sono 18 alberghi in ristrutturazione, alberghi dismessi da anni sono stati da poco, alcuni acquisiti e in ristrutturazione complessiva ovviamente in vista 2026, con le associazioni di categoria c'è assolutamente un clima di grande lavoro e positivo, quindi devo dire che veramente è un momento felice per noi, sia dal punto di vista interno ma anche dal punto di vista ovviamente politico con la provincia, con la quale si collabora e si lavora molto bene, con la regione devo dire altrettanto e devo dire anche con il governo c'è un momento in cui... Senti Sindaco, per concludere l'aeroporto? Allora, l'aeroporto, così com'è dove è stato in qualche modo proposto e visto, cioè sull'aeroporto dismesso di fiamme, la mia amministrazione è assolutamente contraria, come contraria a gran parte del Paese, questo per un problema di tipo ambientale, di sostenibilità, di sorvolo della località. Diverso è una valutazione su un aeroporto che non sia a nord di Cortina, ovviamente o nell'abitato, a sud di Cortina, piuttosto che pensare, perché no, magari nella vicina Valpusteria, forse a Dobbiaco, forse altre zone per poter portare... Sì, dovete spiegarglielo ai ladini, però, che volete mettere l'aeroporto lì, perché non so quanto la Valpusteria è o gli altri valtesini soprattutto... Questo farà parte probabilmente di alcuni discorsi che stiamo portando... In realtà c'è effettivamente l'esigenza di un... più che di un aeroporto, noi vediamo molto bene l'esigenza di un eliporto, e su questo stiamo lavorando, tra l'altro cercando di portarlo a sud di Cortina, non a nord, per questo problema di sorvolo, perché ricordo che in prospettiva nei prossimi anni ci saranno molti più elicotteri, ci saranno, perché la tecnologia va avanti, ci saranno i droni, ci saranno una tecnologia molto diversa, quindi noi comunque dobbiamo salvaguardare la bellezza, la straordinaria, diciamo, natura che ci circonda, che è il valore principale, e quindi adottare tutti i sistemi per cui Cortina sia assolutamente raggiungibile, ma che non sia ovviamente meta di traffici fastidiosi. Ho capito il problema che ha con la comunità locale. Benetton? No, volevo aggiungere qualche cosa in questo senso, come ho detto noi abbiamo cercato come fondazioni di avere le priorità chiare, ma allo stesso tempo di essere complementari per quello che poteva essere il roll out di fasi successive, a partire del grande sistema degli eventi, degli impianti. Allora porteremo anche in approvazione, grazie al commissario straordinario, un impianto che parte aggiuntivo dal centro, proprio perché probabilmente la ferita della mobilità all'interno di Cortina non è risolvibile dalla sera alla mattina o con una grande infrastruttura, ma probabilmente invece immaginandosi una cultura anche di tipo civico diverso, per cui la gente che arriva e non si deve più muovere con le macchine, questo è il tipo di visione. Un'altra cosa che è pertinente in questo senso, dobbiamo renderci conto, parlando di numeri, siamo in una sala in cui sicuramente c'è un'attenzione a questo tipo di elementi, solo un mondiale di sci ha generato investimenti per 500 milioni o la potenzialità di 500 milioni, quindi 100 milioni che arrivano dalla federazione internazionale e dai fondi nazionali, 250 milioni che speriamo che vengano messi a terra da parte dell'ANAS, gli investimenti fatti dai privati, ecco questo per renderci conto del fatto che noi possiamo generare questo tipo di investimenti nel rispetto dell'ambiente, perché personalmente quando sento parlare di aeroporti e grandi infrastrutture mi prendo paura perché mi sembra che stiamo svalutando il nostro valore, una località come Cortina ha un fortissimo DNA, ha una personalità e una storia molto forte, nel 1956 senza ritornare alla storia è stata la prima Olimpia di televisiva, c'è il primo Sciclub per primi nel K2, insomma c'è una storia per avere un'identità propria e non per scimmiotare qualche blasonata comunità o sciistica straniera, quindi quello che facciamo dobbiamo farlo nel rispetto delle nostre bellezze. Guardi, se il riferimento era a San Maurizio e a Davos, due su tutte, va benissimo, ci può essere un modello italiano, non bisogna per forza avere l'aereo del miliardario che arriva per parlare di sostenibilità ambientale in montagna, no? Però una cosa va detta e qui vengo alla parte più critica e vorrei chiudere con Zai e Malagò. Il tema infrastrutturale secondo me è il tema, allora la dico male, ma a Venezia c'è un aeroporto bellissimo, che è stato rinnovato, funziona bene, internazionale, allora io posso anche immaginare che visto l'opposizione della comunità locale che ci sta tutta, perché è vista le difficoltà, uno, adesso vediamo cosa succederà sull'aeroporto, ma un straniero atterri a Venezia e da Venezia c'è già un servizio navetta dall'aeroporto, due ore e venti, ecco, se le due ore e venti diventassero un'ora e mezza, forse non ho bisogno, e poi il miliardario si separerà l'elicottero o prenderà anche lui quello che vuole. Cioè il problema della viabilità da Venezia, non tanto a Belluno, ma da Belluno, diciamo a Cortina, diventa ancora più fondamentale se la scelta per vari motivi è quella di non fare un aeroporto, se non piccolo, se non farlo proprio, se non un eliporto, con un aeroporto bellissimo che avete a Venezia, che non aggiungerà nulla a quell'aeroporto come connettività. Allora, Zaia, cosa si riesce a fare una volta arrivati a Belluno? Eh sì, in macchina arrivo, ma fino a Belluno ci arrivo bene. Ci si ferma qua, è vista a Belluno. No, no, dice lei, e non rompe i coglioni. No, invece vorrei arrivare a Cortina. Guarda, diciamo due piccole considerazioni, saluto anche Gigi Brugnaro che è qui. Intanto Venezia è il terzo scalo aeroportuale italiano, è cresciuto, è gestito bene, per cui è uno scalo che ci fa fare una bella figura, è una bella porta di ingresso nel Veneto. Questo è il primo, che non è irrilevante. Dopodiché, noi sulla partita delle Olimpiadi, per chi non se ne fosse accorto, è una partita importante, che ha un valore altissimo dal punto di vista sportivo, di promozione, eccetera, ma c'è uno infrastrutturale non irrilevante, che è quello che abbiamo comunque, secondo le intese, una miliardata di euro sul tavolo per fare le opere. Allora, io sentivo prima il ragionamento, giustamente, che poneva anche il sindaco di Cortina, i tempi delle opere. Non sono cantieri nostri, potrei stare qui a dire, ma l'ANAS. Però è bene che i cittadini capiscano una cosa. Prima, giustamente, il presidente Berton citava De Gasperi, se non ho capito male, no? De Gasperi. Cioè, i padri della Repubblica, no? Si citano spesso, no? Qualcuno cita Mattei, Mattei, gli anni di Mattei, De Gasperi. Ma guardate che se quei signori fossero qui oggi, avrebbero problemi con la giustizia? Cioè, rendetevi conto che oggi noi abbiamo... Cioè, in questo paese... E guardate che la colpa c'è anche il cittadino, eh. Perché se ogni volta che tiri su le tapparelle di casa, ti preoccupi di capire se il tuo vicino di casa si è arricchito a notte e tempo... Cioè, sto odio sociale, poi si traduce in burocrazia. Perché noi amministratori, che non è che ci divertiamo a fare in modo che le opere non arrivino mai, ma voi non avete neanche un'idea di chi travasi di fegato, mi faccio io pensare che ho ospedali in cantiere e vedo la luce dal momento in cui parto coi lavori, in 8-10 anni. Però l'ente pubblico e noi amministratori siamo chiamati ad applicare le leggi. E le leggi oggi, in Parlamento, in virtù dell'indicazione che dà il popolo, sono per nulla... con applicazioni non estensive, non discrezionali. Guarda, c'è un ultimo reato che si sono inventati, che è il traffico di influenze. Ciò vuol dire che oltre ad applicare le leggi, tu non ti devi permettere di alzare il telefono e non dire uno, alza le chiappe dati da fare. Questo è quello che accade. Non è che facciamo le assemblee per lamentarci dei tempi della pubblica amministrazione. Facciamo un'analisi che va un po' più in là della punta da naso e capire in che contesto siamo costretti a lavorare. Ma io vi do l'idea di uno che vuole la burocrazia. Però il vero tema è che queste opere, noi per assurdo abbiamo pensato alle Olimpiadi, per portarci a casa il pacchetto concluso, che è quello che è partito per i mondiali di sci. Il mezzo miliardo, anzi, il miliardo di euro che abbiamo ci servirà per la variante di Longarone che per noi è prioritaria, lo diciamo senza problemi. Nella lista delle opere che presentiamo la variante di Longarone è prioritaria. Non è che pensiamo al consenso per le opere. Perché se avessimo pensato al consenso, molto probabilmente qualcuno avrebbe neanche presentato alle Olimpiadi come candidature. Cioè, in questo paese sono riusciti a fare il comitato contro le Olimpiadi. Lo sapete, no? Sono vostri conterrani. Sono riusciti a fare il comitato contro il patrimonio di umanità per le colline di Valdobbiade nel Conegliano. Riescono a fare il comitato contro la Pedemontana che è il più grande cantiere oggi in Italia. 2 miliardi e 258 milioni di opere. Riescono a fare il comitato anche per il vicino di casa che peinaffia il giardino. Questa è la contesto nel quale lavoriamo. E' inutile pensare sempre a un paese che deve crescere, fare bei discorsi. La verità è che ognuno di noi deve fare qualcosa perché questo paese cresca. Se no non cresce più. Allora, raccolgo e vado verso la conclusione e raccolgo l'appello del governatore perché vorrei che... Allora, i Veneti hanno tante qualità, però lo dico da Veneto, una cosa non ce l'hanno negli stereotipi quantomeno italiani. Sono sempre divisi tra di loro. E questo non vi vengo a raccontare uno di nuovo, no? A tutti i livelli. Vicenza contro Verona, ma chiaramente è colpa di Vicentini. Padova contro Venezia, Treviso contro Venezia, Eurovigo. Allora, le baruffe che ho zotte, le ho chiamate io. Allora, se le Olimpiadi 2026 dimostreranno che il vento riesce a fare sul modello della Lombardia, ogni tanto si può guardare, a presentarsi unito in tutte le sue... Guarda che non è che sono bravi loro, cioè anche loro non hanno le loro occasioni. Adesso ci arriva, lo capito, ma non è che fanno la gara che ha più sfighe, Zaia, dico semplicemente... No, cioè, stai... No, no, dico... Stai consacrando... Non sto consacrando, la mazza, ma non... Allora... E guarda che ti sei veneto. Ecco, vedi, sempre traditore, adesso arriva traditore. Però, se un modello... Lo chiamo Emiliano? E te la sei cercata così? Se il modello Emiliano... Eh, allora... Abbiamo lo stesso film. Allora, se il modello Emiliano funziona. Grazie a Bonaccini. E i veniti potrebbero imparare anche da altre... E secondo me, non è contro di te, è un'occasione per mostrare un evento unito in cui tutte le municipalità lavorano assieme. Però la domanda te la faccio lo stesso. La soluzione, dopo quello che lei ha detto, è una forma, diciamo, di commissario straordinario, perché, lo dico, perché l'Expo, e tanto è vero quello che lei ha detto, che Zaya si è beccato, che Sala si è beccato un processo per una piastra, per aver accelerato una piastra, se no non si faceva proprio l'Expo, e poi per fortuna l'hanno assolto, lo dico io per fortuna. Ma dico, il modello può essere quello di poteri straordinari, perché se poi iniziamo con tutti i comitati... O no, Zaya? Guarda, io resto convinto di questo, ma c'è gente che gli viene l'orticaria quando tu dici che ci vuole il commissario, perché in Italia abbiamo addirittura un partito che basa tutto sul fatto che dietro una carriola di Malta ci deve essere un ladro, perché se no non funziona più nulla. Allora, io penso una cosa, Sant'Andrea è qui, che lo ringraziamo, lui è commissario, un applauso se lo merita. Allora, noi adesso abbiamo come progetto, lo diceva anche Alessandro Benetton, abbiamo come progetto il collegamento Cortina-Rabba e Cortina-Valzoldana, che non è una roba da poco, avremo dei nemici già fuori casa, perché questo giochetto qua cuba per noi il doppio del Sella Ronda, vuol dire, lo diceva lui, più grande complesso sciistico del mondo. Avete, cioè, in giro tremano i polsi a pensare che noi riusciamo a fare una roba del genere. E nel contesto delle Dolomiti. Allora, io capisco i comitati, capisco tutto, però ci confrontiamo fino alla fine, ci mancherebbe, rispetto per le idee di tutti, cioè, per me è un mantra, però alla fine poi bisogna farle le opere, e per farle velocemente ci vuole qualcuno. Sceglietevi un magistrato, scegliete persone di indubbia moralità, ma si diano pieni poteri a qualcuno. Non possiamo andare avanti con questo sistema. Questo paese ha perso competitività con questo sistema. Io purtroppo temo che lei abbia ragione. Allora, voglio concludere con Malagò. Che cosa potrebbe andare storto? E sperava alle sciatine di pelo. Eh no. Allora, saluto Brugnaro, perché per me oltre che un ottimo sindaco, un uomo di politica, è un uomo di sport. Abbraccio Sant'Andrea, il commissario, perché ricordo che fu nominato governi precedenti ed è stato confermato, cosa non banale, perché poi c'è anche questo, il commissario, che è bravo, te lo cambiano in corsa. Voglio dire due o tre cose che spero aiutino e poi vediamo cosa può andare a scorto. Innanzitutto, chiariamo questo concetto, Olimpiade, come funziona. C'è un Consiglio Olimpico, gli stakeholder, gli azionisti, i due comuni, Milano e Cortina, le due regioni, Veneto e Lombardia, le due province autonome, abilmente trascinate da Luca e poi coinvolte dal sottoscritto, Alto Adice e Trentino. E c'è il Governo, Consiglio Olimpico, con i rappresentanti del CIO. Sotto, praticamente, come se fosse un triangolo equilatero, c'è a sinistra l'OCOG. L'OCOG è il comitato organizzatore, una fondazione privata. Io sono un modestissimo presidente, rappresentante legale dell'OCOG, la macchina, la gestione, c'è la Vincenzo Nomari, il CIO qui presente in sala, che lo abbraccio perché lo aspetta una bella sfida. Attenzione, l'OCOG, attenzione, si occupa di sport, si occupa esattamente di quello che sta facendo. Alessandro, e lo ringrazierò sempre perché ho l'onore e l'onere, anche questo con Luca, condiviso, di averlo trascinato in questa avventura. Siamo tutti volontari, chiariamo anche questo che non è da poco, perché scioccono dalla parte sportiva. Cosa vuol dire? La gara deve essere ben organizzata, i giudici devono essere messi in condizione di fare il loro lavoro, il cancelletto, le telecamere, le tute, le condizioni meteorologiche che, logicamente, devono essere spiegate con molto altissimo, la transportation dal villaggio che sia la casetta per la professione civile sia quella che viene destinata per gli aspetti universitari, vede il discorso dello scalo di Porto Romano. Questo è l'OCOG. Il CIO ci dà 950 milioni di euro, avete capito, cosa che non era mai successo prima, perché adesso i diritti televisivi, le revenues, tutte le aziende che investono su di noi, le multinazionali, praticamente, chiedono di avere talmente una garanzia sull'OCOG che praticamente loro ti danno un sostegno, a parte in cambio merci, in value in kind, in parte in cash. Benissimo. E tutto questo c'è una ricaduta sul territorio, da qui al 2026. Poi invece c'è, chiudi il triangolo, a destra c'è l'agenzia. L'agenzia è pubblica, è governativa, regioni, comuni, formula, commissario, a me non è che va bene, va benissimo, però come dice Luca, Zaia, che oltre a essere un gran politico è uno pratico. C'è molta gente che non la condivide questa idea, perché pensano che c'è l'idea del commissario che vuoi bypassare delle regole. No, si tratta solo di dire quello che ha detto Antonio, cioè di accelerare un percorso di qualche cosa che è già stato stanziato, addirittura ci sono i fondi, ma devi praticamente mettere in moto la macchina. Cosa è servito alle Olimpiadi? Che è fondamentale. E quello praticamente lui ha usato a termine accelerare di mettere in condizione tutte queste opere, siccome non credo che vogliamo fare una figura planetaria e qui quindi rispondo alla domanda dell'eccellente Sebastiano, praticamente di essere pronte in tempo, perché se no probabilmente anche gli industriali che sono in sala, anche le attività produttive, anche tutti gli uomini e le donne di Confindustria che abbiamo parlato, probabilmente la loro opera diventa onestamente veramente uno sforzo straordinario. E concludo, perché parlando col sindaco, parlando con l'assessore allo sport, nel 1985 in questa realtà di Belluno furono fatte le universiedi, penso che ve lo ricordate, il palazzetto dello sport e mi sono informato che si chiama Spessa Arena fu fatto per universiedi, all'epoca si giocava a ghiaccio, poi è stato trasformato, attività polivalenti, si è giocata a pallavuola, palaganestro, gli sport del tatami, se non c'erano universiedi nel 1985 io non so se Belluno avrebbe quel palazzetto, per questa è la grande eredità, la legacy che devono dare le Olimpiadi. Allora, nel ringraziare anche Giovanni Malagò, colgo lo spunto del governatore Zai, non penso che la Lombardia non abbia problemi, è che siamo l'assemblea industriale di Belluno, fossimo a Sondrio, parlavamo della Valtellina, non è che andasse molto meglio di Longarone, lo dico perché poi non esiste Lombardia Felix, esiste Lombardia come regione con tanti problemi da affrontare. In bocca al lupo a tutti, perché io tifo Italia in primo luogo, quindi voi siete la rappresentazione di quello che sta per succedere, spero di bellissimo, nel 2021 e nel 2026, ma dico Italia perché se ne usciamo bene lì, commissario, facciamo un commissario, ho già capito, però se ne usciamo bene lì, ne esce bene l'intero paese che ha bisogno anche di riscatto e magari diventa un modello virtuoso per altre regioni che si sono un po' distratte su cosa crei sviluppo e cosa crei invece disoccupazione non su siderità. Intanto per essere espliciti la Puglia così si capisce cosa voglio dire, nel senso che pure lì sarebbe bello avere, diciamo, meno attenzione per gli olivi e più attenzione per lo sviluppo industriale. Grazie a tutti, in bocca al lupo veramente da parte di tutta la Sara. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.